Quanto sei soddisfatto della campagna acquisti e di iniziare questa nuova avventura? Tanto, devo dire che mi sento come il primo anno da professionista quando ero calciatore. Grande entusiasmo, grande passione. Io sono affascinato da questa maglietta, da questo ambiente così difficile per tutti e sarà sicuramente difficile un pochettino anche per me, perché comunque da me ci si aspetta qualcosa. L'unica cosa che posso dire è che sono veramente contento e che ci metterò tutti. Dopo un anno bellissimo oggi in Ate, sei arrivato a Lecco. Come ti senti? Sicuramente molto motivato, pronto a far bene anche qua, sperando di raggiungere il risultato più alto possibile e cercando di ritagliarmi uno spazio molto importante anche qua. Che ambiente hai trovato qui a Lecco? No, ho trovato grande entusiasmo, grande voglia di far bene sia da parte dei ragazzi che da parte del direttore della società. Credo che sia con una buona base di partenza. Poi ancora dobbiamo iniziare a lavorare, quindi magari fra qualche giorno saprò dirvi qualcosa di meglio. Però insomma credo che ci siano tutti gli ingredienti per poter far bene. E quanto conta l'esperienza che porterai tu in squadra? Spero che aiuti, soprattutto per i ragazzi più giovani, ad aiutarli, a farli sentire importanti. Spero di portare tutto quello che è nel mio bagaglio per riuscire a far raggiungere i migliori risultati all'Ecco. Grazie.